i giudici quindi attendiamo in campo le in campo 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 alla premiazione alla premiazione l'allevamento olri cavalli arabi quindi signor Fausto Scanzi come allevamento olri alla premiazione delle fattrici del campionato Egyptian event in campo e allora e allora abbiamo il signor Fausto Scanzi alla premiazione delle fattrici del campionato Egyptian event come allevamento olri masara nasce nel 2012 da majide qmb marasa da el alimar allevato da daniele guerrini proprietario della società agricola assa di chiara carriere ecco il signor Fausto Scanzi ecco il signor Fausto Scanzi che oltre allevamento olri è anche il comitato organizzatore insieme alla promo berger il signor Mario Fermi in questa premiazione premia come allevatore allevamento olri cavalli arabi qui a villa dal me ed è premiata masara di società agricola assa la campionessa la vincitrice dell'egyption event fattrici è Maggie che nasce nel 2013 da arridaio salcusare marescia alchidir da alchidir ed è angelo guggino che ne è allevatore proprietario queste sono le fattrici dell'egyption event la categoria dedicata al pur sangue arabo di linea egiziana a seguire la categoria destinata agli stalloni della categoria Egyptian event la categoria D quindi ripeto avremo una sosta di circa un quarto d'ora poi si riprenderà con le categorie Futurity quindi si si si